qual è il motivo per cui siete qui realmente sicuramente non sono io ma c'è una persona ben precisa ed è nicole ceresetto qui con noi stamattina ben arrivata nicole sappiamo che si è appena scesa da cavallo innanzitutto comandata la gara è andata molto bene ho fatto un errore purtroppo in seconda fase ma per fortuna sono in finale mi scuso volevo scusarmi per il ritardo ma ho dovuto mettere a posto il cavallo e le mie cose però sono qui sono riuscita a venire no forse anche meglio hanno avuto tempo di organizzarsi rivedevo che ti cercavano e noi siamo qui per presentare qualcosa di speciale perché sentiamo sempre gold span nel mondo dell'equitazione che cosa fa gold span lo sapete tutto il trucciolo più ricercato più voluto il migliore però per questa occasione ha presentato una limited edition che è la nuova collezione di scarpe che sono quelle che ai piedi volevo sapere sono comode sono molto comode poi mi piace il colore la mia vita colori quindi sono le mie scarpe ecco rainbow color questa qui è la limited edition come dicevamo creata per la fiera e dunque c'è la collezione rainbow poi c'è la gold ti piacciono quelle oro sì però rimango sempre sul colore e poi ci sarà la black edition tu sei una fashion victim però queste qui incontrano i tuoi gusti no queste per me sono perfette belle tutte ma queste e provate c'hai camminato un po sì ho fatto forse da lì a qui per quello sono ancora ancora un po di trucciolo incastrato dal box perché ho fatto di corsa infatti guardate praticamente c'è la combo trucciolo e scarpa vabbè tanto se spargo un po di trucciolo è trucciolo gold span mi hanno detto che va bene poi lo raccolgo lo rimetto in box ecco io volevo ricordare dove possono essere acquistate queste scarpe dove le si possono trovare infatti c'è il nuovo sito www.golspanlifestyle.com dove si possono ordinare perché comunque sono scarpe realizzate su misura che numero hai sveliamo anche questo dettaglio così lo troviamo poi su vanity fair nicolce reseta al numero il 37 e mezzo 37 e mezzo ecco siccome queste bambine che magari avranno alcune il 33 pur di avere le scarpe uguali alle tue prenderanno le scarpe 37 e mezzo anche se non sarà il tuo numero può essere non lo so ecco loro sono ovviamente tutte qui per te per fare una foto con te per avere una tua firma qual è il tuo rapporto con con i fan noi ti vediamo sempre comunque molto presente è un rapporto d'amicizia abbiamo seguito anche la parte burro cacao e rincarenza no allora io col freddo mi si spacca le labbra e ho dimenticato a casa il burro cacao ma non sai quante persone me l'hanno portato io ora c'ho la scorta fra niente per i prossimi dieci anni a posto a posto ne hai depositato uno in ogni angolo esatto lo metterò ad ogni giacca in ogni giacca in ogni borsa così sarà a posto non me lo dimentico mai direi perfetto ricordiamo ancora che queste scarpe sono tutte made in italy o meglio made in tascani tutte realizzate a mano sei messata in toscana ora te la porti anche un po ai piedi e si e dunque secondo me potete avvicinarvi per fare una foto con Nicole avere il suo autografo io ve la lascio io ti lascio il microfono direi di sì hai bisogno delle mani grazie mille grazie 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 Grazie.